Ottobre è il mese che la Chiesa Cattolica dedica alle missioni e il gruppo Missio Giovani della Diocesi di Acireale insieme al coro Missio Madagascars Angels di Giarre hanno organizzato una serie di iniziative come da tradizione. Nell'ambito di questo programma, ieri la Chiesa di San Leonardo di Mascali ha ospitato il coro che ha tenuto un concerto per le missioni. Il coro Madagascars Angels diretto dal maestro Michele Patanesi è esibito in un repertorio che spazia dalla polifonia sacra al gospel. e spiritual. Il ricavato delle offerte come sempre va a sostegno delle missioni oltre a servire al sostentamento delle adozioni a distanza di bambini malgasci. Abbiamo organizzato insieme a Missio Giovani diversi eventi. Abbiamo iniziato proprio ieri con la degustazione multietnica dove abbiamo venduto e comunque hanno dato delle offerte a favore della giornata missionale che ricorre proprio oggi domenica 23 ottobre. Ecco anche il Papa ha dato il suo messaggio di essere più solidale e più sensibile non solo nel dare la piccola offerta che può aiutare sicuramente i più bisognosi ma comunque essere anche vicini a tanta gente che è vicina a noi. In modo particolare stanno contribuendo nella nostra diocesi Missio Giovani che hanno comunque lavorato per ecchio in questo periodo anche nella preparazione della veglia che sarà celebrata mercoledì 26 ottobre in cattedrale in presenza del Vescovo. Ci sarà anche la presenza di Alessandro Zappalà che è il segretario nazionale del Movimento Giovenile Missionario che sicuramente darà una forza al nostro gruppo.